buongiorno a tutti amici del tecnoviaggio oggi ci troviamo a levante e vedremo insieme una tipica costruzione di questa zona il casone questo veniva praticamente usato dai pescatori come rifugio in inverno quando pescavano la sera si rifugiavano in questo fabbricato fatto di paglia legno dal quale praticamente una cosa molto particolare esce il fumo da un cammino interno però non entra la pioggia e qui possiamo vedere la parte del bacino praticamente della parte finale della costa di levante oggi c'è una bella secca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti E dall'altra parte c'è praticamente la spiaggia della Brussa, la spiaggia a naturale dove si può andare tranquillamente con la barca in estate o in inverno. Qui possiamo mirare anche un cigno, qua è un po' il ritrovo dei cigni, come vedete in fondo ce ne sono tanti che mangiano, questo è l'abitato ideale. Qua siamo immersi nella natura ed è bellissimo venire qui a passeggiare con la famiglia anche l'inverno. Bene amici del Tecno Viaggio vi saluto dalla zona di Levante di Caorle. Grazie. 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 Grazie.